buongiorno questa qui sarà mia morning routine bene ragazzi quest'oggi da quanto ne so da quanto sono rimasta sarà una giornata molto molto bene il problema è che non sto molto bene di salute quindi ora andrò praticamente a fare colazione, sarò un po' al computer per vedere se riesco a riprendermi un attimo e niente mi lavo, mi sistemo un attimo poi ritorno un po' all'atto e magari mi guardo una puntata o magari scrivo, magari faccio qualcosa bene ragazzi io sono arrivata in cucina e adesso preparo la colazione bene ragazzi mentre sto facendo il tè praticamente ho messo a posto perché sono abituata che quando mi alzo che quando vengo a fare colazione metto sempre a posto e poi posso godermi in tanta pace la mia colazione perché sono un po' fissata con le pulizie e per chi mi conosce e che vedrà questo video lo sa benissimo soprattutto la mia vera amica Eli che mi vedeva anche alle 6 del mattino a volte pulire quindi sono un po' pazza, sono un po' psicopatica con le pulizie quindi come potete vedere ho pulito, ho messo a posto e niente quindi ora sto preparando il tè e mi metterò in una tazza un po' di cereali bene ragazzi io mi sono raccolta i capelli e niente sono qui con la mia colazione e mi sono messa anche al computer visto che sono soltanto alle 7 o ancora diciamo quasi due ore di tempo prima di iniziare a fare tutte le cose che devo fare così vedo anche se mi riprendo eccetera eccetera mi guardano una puntata di Cressanato mi visto che sono già due giorni che non guardo niente e mi sento male quindi ho detto sì basta guardiamo una puntata nel frattempo spero di riprendermi assolutamente perché devo andare a caricamento a fare delle commissioni cioè vabbè devo lasciare un curriculum e niente è questo bene ragazzi ho guardato una puntata si sono fatte praticamente le 8 adesso vado a lavarmi la faccia bello caduta in diretta dicevo ora vado a lavarmi i denti la faccia vabbè vado diciamo a lavarmi in generale e vedo un attimo vedo un attimo cosa fare grazie a tutti Grazie a tutti. Ciao, perrito! Buongiorno, perrito! Perrito! Buongiorno, gente! Sono pronta! Cioè, mi devo solo vestire, ma mi sono truccata, mi sono lavata, tutto quanto, come avete visto! Sì, ok, sono pazza e vabbè, lasciamo perdere. Bella vista da questo piano, sembra che sono senza collo, comunque devo finire i miei cereali. Ma non... Boh, la tisana mi ha riempita. Bene, ragazzi, io sono pronta, sono truccata, pettinata, vestita e voilà! Mi sono messa un giacchettino di pizzo bianco, con un top così floreale, come vedete, pantaloni di pizzo, patoncini, vabbè, e scarpe ovviamente di pizzo, così ho fatto praticamente tutto il completo. Questa qui era la mia morning routine, spero che vi piaccia, anche se piccolina, ma comunque sia, non sarà sempre questa la mia morning routine, ma anzi, cambia praticamente di giorno in giorno, a parte, vabbè, la pulizia mia, di me, la pulizia di casa e le faccende e cose così. Beh, comunque sia, vi farò parecchie morning routine in questo mese, anche negli altri mesi e cercherò assolutamente di essere sempre più presente, anche con video magari corti o comunque video, diciamo, giornalieri e... E niente, vi volevo solo dire questo, spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio e ci vediamo al prossimo video.